Buongiorno e ben trovati a questa edizione della rassegna stampa di Futura News da Monica Merola Ed apriamo con l'edizione di lunedì 4 maggio del Corriere della Sera In 20.000 per pulire Milano, cittadini in piazza con guanti e spugni e via gli sfregi dai muri Mattarella, ammirato L'editoriale di Cazzullo invece parla delle elezioni amministrative del confronto a parco candidati delle prossime elezioni Intanto Renzi commenta circa le manifestazioni sul DDL Scuola Non saranno tre fischi a fermarci, piano del governo per il patto antipovertà Adesso apriamo con la Repubblica, che vediamo che dà molto spazio alla manifestazione dei cittadini milanesi Ma apre comunque con la contestazione a Renzi durante la festa dell'Unità di Bologna Senza DDL a scuola, 100.000 a rischio, Renzi contestato Camusso riforma Proreti, domani sciocco, tensione a Bologna, il premier non mi spaventa E dicevamo appunto dell'amplio spazio che dà il quotidiano romano alla marcia dell'orgoglio Così la definisce Paolo Berezzi Ripuliamo Milano, la gente picchiato è stata una trappola E il corteo dell'orgoglio di Milano, titola così la stampa Sfila nel 20.000 dopo aver ripulito e riordinato la città devastata dai black bloc La rivincita del paese che dice sì, secondo l'editoriale di Mario Calabresi Al centro tensione alla festa dell'Unità di Bologna Renzi contestato, ma non ho paura Intanto Francesca Schianchi, Italicum, oggi il voto finale alla Camera E passiamo alla stampa, maledizione locale, su Torino e provincia Con il successo della Torino da scoprire, tre giorni da record per il Ponte del 1 maggio In città si sono registrati 100.000 turisti Spinti, ovviamente i turisti spinti sia dall'offerta culturale Che dalla ostensione della signone che continua In taglio basso l'editoriale firma del sindaco di Torino, Piero Fassino La svolta dell'ex capitale industriale Così abbiamo cambiato pelle, sottolineando come Torino da capitale industriale Diventi anche città di interesse culturale e turistico E il sole 24 ore apre con il fisco scuro Che costa i contribuenti 17 miliardi Accompagnandolo dall'auto che assume progettissimi esperti di marketing 700 opportunità di ispirargli di ripresa E passiamo adesso allo sport Con la gazzetta dello sport Che apre con l'accessione della mina da parte di Silvio Berlusconi Alla cordata cinese guidata da Mr. Li Di spalla il campionato con la Lazio e l'Inter Che frenano nella Roma che torna al secondo In taglio basso invece spazio all'incontro Della box tra Floyd Mayweather e Manny Papiao Vinto dall'americana E il ritorno alla vittoria in MotoGP di Jorge Lorenzo Nel giorno del 200esimo podio di Valentino Rossi Che rimane in testa al mondiale E l'appuntamento è per l'1.10 su Radio 110 Con l'Igr di Futura News E tutto per oggi Alla prossima edizione Per segna stato Futura News torna domani alla stessa ora Grazie per averci seguito